L'estate sta per finire, ma il divertimento non si ferma. Tornare a scuola significa qualcosa di diverso per tutte le persone coinvolte. Studenti, genitori e insegnanti. Ci sono compiti, supervisioni, lezioni. Ma è anche il momento dell'anno per creare nuovi ricordi e vivere insieme esperienze divertenti. Potrebbe anche essere la stagione in cui vinci uno dei nostri fantastici premi, incluso un MacBook Air, partecipando alla challenge di Wondershare hashtag Back to School Creation. Mostraci il tuo entusiasmo per il ritorno a scuola in un video che evidenzi i momenti più emozionanti. Studenti, godetevi al massimo quest'anno scolastico con i vostri amici in mille avventure. Genitori, è tempo di lasciarsi alle spalle lo stress e tornare a fare tutte le cose divertenti che amate. E insegnanti, è ora di tornare riposati per continuare a divulgare la conoscenza a scuola e attraverso contenuti educativi online. Vediamo cosa ti rende entusiasta di questo periodo dell'anno. Partecipa all'hashtag Back to School Creation inviando il tuo video su una delle nostre piattaforme social. Non farti scappare i nostri fantastici filtri creativi per dare insieme un'occhiata al nuovo anno scolastico.